Il bollettino della Regione Veneto riporta 72 vittime in 24 ore. In crescita il numero dei positivi sono 3.980 in più. In isolamento si trovano 44.437 persone. I ricoverati sono attualmente 2.579, 50 persone in più. In terapia intensiva si trovano 323 pazienti, meno uno rispetto a ieri. I numeri sono in crescita e Zaia ha espresso la sua preoccupazione nel corso del punto stampa quotidiano, sottolineando ancora una volta gli errori che tante persone fanno perché non seguono correttamente le regole di distanziamento. La punta massima di ricoveri nella prima ondata era stata di 2.400 pazienti ricoverati.